Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto insegnare dell'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica a un gruppo di cittadini di diversi ruoli, professioni e provenienza geografica che si sono particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l'emergenza del coronavirus. Tra questi l'avvocato vercellese Carlo Olmo che ha contribuito nel rifornire gratuitamente comuni e strutture sanitarie del Piemonte di mascherine, guanti e camici. Questo dice la motivazione del Quirinale. Abbiamo in collegamento l'avvocato Carlo Olmo. Grazie sempre della gentilissima disponibilità e accoglienza. Allora Carlo, un'onorificenza davvero importante. Innanzitutto te l'aspettavi? Ma allora, ovviamente no. Anche se so che diversi esponenti, per esempio del Consiglio regionale, del Consiglio comunale, ma anche tanti cittadini, avevano già presentato questa istanza, segnalazione al Capo dello Stato, al Quirinale, per la procedura di investitura a Cavaliere. Ovviamente Cavaliere al merito, che è la più alta onorificenza, potrei dire, di valore civile. In una situazione come questa, che è stata proprio quasi una guerra, una battaglia, da una parte silenziosa, dall'altra parte invisibile, ma molto sofferta del Covid, avere questa onorificenza per me è un attestato di conferma della bontà e della perseveranza di tutte le azioni meritorie, che non solo io, ma tanti cittadini come i sanitari abbiamo portato avanti per questa missione, un po' di salvataggio. Ricordiamo il percorso, un percorso nato nei giorni bui, nei giorni difficili dell'emergenza Covid, quando raccontavamo di ospedali, di rianimazioni, che ogni giorno rilasciavano bollettini pesanti, pesantissimi di morti. Ora la situazione è diversa, ma siamo partiti dalle mascherine. In un momento in cui erano introvabili, l'Avvocato Olmo è riuscito a rifornire di migliaia e migliaia di mascherine che ne aveva bisogno, dalle forze dell'ordine, agli ospedali, alle strutture sanitarie. Carlo, sei partito da lì per un lungo viaggio di solidarietà, lo vogliamo ripercorrere? Beh sì, tutto parte il 4 marzo dall'arrivo di questa visione del lupo bianco e dalla mia decisione, il giorno dopo, di proprio al telefono chiamare le forze armate, l'esercito, la caserma scalise, il colonnello in gala, il tenente colonnello Gradante, per chiedere da privato cittadino un aiuto nell'andare a reperire tanti dispositivi di protezione individuali che attraverso i miei contatti creati in 40 anni di collaborazione e amicizia sincera con le comunità cinese ero riuscito a trovare sia dall'estero in arrivo sia in Italia. C'è stato poi un gioco di squadra fra me che ovviamente acquistavo tutti questi dpi o li ottenevo in donazione, le comunità cinesi sparse per tutto il territorio nazionale che si sono fidati di me, le forze armate, la direzione amministrativa dell'Asle con tutte le procedure di accettazione delle donazioni e l'agenzia delle dogane di Vercelli con Federica Sassone che mi ha nella piena legalità aiutato a sbrigare tutte le procedure doganali in un periodo di reale emergenza. Questo cocktail di forze pubbliche e private che si sono unite per la salvaguardia di un interesse comune hanno permesso questo piccolo miracolo, questa magia che nel territorio, pensiamo, in un territorio di 47 mila abitanti sono piovute 140 mila mascherine, migliaia di camici, di tute, di visiere e io ricordo quella giornata speciale dove c'eravate anche voi, graditissima televisione, che appunto ha suggellato questa amicizia, questo sodalizio con le forze ospedaliere molto provate dal Covid. Ricordo che c'è gente veramente che è stata quasi intubata e che comunque ha avuto, pensiamo al presidente dell'ordine dei medici, anche il dottor Fossale, e portare queste ulteriori visiere e camici per suggellare questa amicizia con il mondo sanitario che è stata fra l'altro celebrata da un canto spontaneo dell'Inno Nazionale d'Italia che oggi risento nel ricevere questa onorificenza dal Capo dello Stato. E poi un percorso che non si è fermato, si è andati ad aiutare i ragazzi in difficoltà con il pagamento delle tasse universitarie e quindi il dopo, l'investire sul futuro, sui giovani che studiano, tante famiglie, lo ricordiamo, in questo momento sono in difficoltà e poi proprio notizia di queste ore, l'aiutare le nuove povertà che si spera temporaneamente si stanno creando anche con l'iniziativa di aiutare nel pagamento delle utenze. Carlo, dai giovani alle famiglie in difficoltà con le bollette, altre due grandi sfide che hai vinto, che stai vincendo? Sì, perché dallo scemare dell'emergenza sanitaria, anche se c'è ovviamente un monitoraggio continuo ed è giusto che sia così perché è un virus molto in fido, si è passati all'emersione di un'emergenza economica che ha aggravato delle posizioni anche di povertà che erano già ovviamente sul territorio, come dappertutto. Per cui il lupo bianco si è diretto sotto questi altri ascolti perché molti, migliaia di messaggi mi arrivavano e allora ho cercato di veicolare questa azione di solidarietà estremamente con una grandissima risposta della gente su tre obiettivi. Gli studenti che sono il nostro futuro, quindi borse di studio per l'università, per l'Upo e l'Upo alumni, per appunto 40-50 studenti della facoltà di medicina che potranno laurearsi e affrontare le tasse meglio. Tablet anche per studenti di istituti scolastici primari e secondari e anche altre borse di studio. Poi c'è stato il charity tour che praticamente sono stati quattro viaggi, l'ultimo lo faremo venerdì, dove abbiamo distribuito su donazioni gratuite dei cittadini, pensate, 15 tonnellate, arriveremo a distribuire 15 tonnellate di derrate alimentari di prima necessità per oltre 1200 famiglie in difficoltà veramente nel mangiare. E questo è un segnale di una forza di solidarietà clamorosa, dobbiamo affittare dei pullman per portare queste derrate. E l'ultimo passaggio è stato interessantissimo, l'abbiamo realizzato proprio in questi giorni con una triangolazione di accordo fra me come ente proponente e donatori privati di 15 mila euro dati praticamente al servizio delle politiche sociali del Comune di Vercelli per aiutare queste emergenti povertà come dici a sostenere le spese delle utenze domestiche essenziali gestite dal fornitore fondamentale comunale pubblico che si chiama Tela, che ha dimostrato collaborazione e attenzione di andare incontro ovviamente ai cittadini. E questo è un altro risultato straordinario. Ti abbiamo seguito in questi passi anche durante le nostre dirette e le nostre trasmissioni. Ora lo voglio ricordare, è arrivato il sigillo proprio con questa onoreficenza importante, lo ricordiamo Carlo Olmo, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, ma Carlo a livello personale di questi mesi bui che ora fortunatamente, i dati lo dicono, ci stiamo lasciando alle spalle, so che anche il territorio vercellese ha buoni dati rispetto a quelle che sono le notizie sanitarie così un po' come tutta Italia, ma tu cosa ti porti dietro di questa esperienza e come la trasferirai anche nella tua vita futura? Guarda, è una cosa che sto ancora elaborando, perché ci sono delle parti di ferite, delle parti di luce che ovviamente lavorano ancora dentro di me. Posso dire che l'emozione più grande che io abbia avuto in questa esperienza a livello umano è stato vedere il Vice Presidente, il Segretario dell'Ordine dei Medici di Vercelli, oramai un amico fraterno che è il Dottor Scarrone, con cui sono andato addirittura a Bergamo ad aiutare i medici di Bergamo con delle forniture. Ecco, venire nella cosiddetta Tana del Lupo Bianco nella mia abitazione, quella sera quando sono riuscito a procurargli 4.000 mascherine FFP2 per i medici di famiglia e non si trovavano da nessuna parte, ecco, vedere un uomo di oltre 60 anni, medico, che si inginocchia per ricevere queste mascherine come avesse ricevuto un miracolo. Ecco, per me questa è un'emozione straziante, ma che dà l'idea della forza dell'uomo nel voler reagire, nell'affidarsi a tutto ciò che può essere proprio quasi soprannaturale per resistere a questo mostro che veramente ha falciato tante vite e questo in questi mesi è una cosa che ovviamente mi è rimasta per poter dire forse si poteva fare di più. Ecco, e questa è una cosa che sento perché ho sentito tante lacrime, tanti pianti, tantissime telefonate, messaggi di gente che crollava e io ho cercato di sostenere per tutto quello che potevo e quindi questo è quello che mi porto con la forza di tanti lupi bianchi che ci stiamo sorreggendo ancora per aiutare chi soffre.